Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Olight mi ha mandato una nuova luce da provare Questa è la RN800 E' un po' più leggera della 1500 che ho già avuto e che trovate il video qua sopra Però direi che non c'è tempo da perdere Andarle a provare questa sera sarà fantastico insieme a Freda Se non la conoscete aspettatevi un gran video E quindi vai con la sigla e ci vediamo tra poco con una bel riding serale Grazie a tutti Grazie a tutti Ok boss allora Ci siamo boss Pronto Vai luce a stecca Ci siamo È giorno È giorno Crap Crap Ci sta scappando da troppo Zio Franci è troppo fast Com'è bro? Ah grande ma si vede benissimo Si è top è fatta di brutto Ma devo fare da che notte boss Allora gli ho dato a boss Freda questa 1500 Com'è questo light? Un spettacolo boss Sì che si è giorno Io invece ho la 1500 classica qua sul manubrio E ho questa nuova 800 sull'impesto per vedere se un po' di etti in meno fanno la differenza e per adesso va alla grande Ma è un po' di più È stato un po' di più E' stato un po' di più E' stato un po' di più Ragazzi questa è la legnaia, dietro a gogò, ma di notte si vede benissimo con queste luci. Allora cavallo? Minchia, sta luci qua perfetta, è super leggera, non la sette neanche in testa e non dà il suo fastidio, cioè è proprio perfetta. Ok, attenzione. Meccanico, fredda, improvvisato, subito. Prova subito il cambio, non sale. Mastra elettronica? Vai, turbo qua? Turbo. Siamo in discoteca? Aspetta, Oscar, non sto cercando. No, no. Ah, che piacere il cambio, subito così. Attenzione, sentierino in salita, discovered by Freda, boss cavallo. Ragazzi, se non conoscete ancora Freda, andatelo subito a seguire su Instagram. È un vero cavallo di razza, ma non vi dico nient'altro perché è tutto da scoprire. Attenzione, è come rampa. No, no, no. Ok. Tosta questa. È quasi caldo di notte ragazzi, se non siete mai andati di notte ve lo ripeto. L'ho già detto in altri video sulle luci. Provate perché si entra in un mondo completamente diverso. Io adesso vedo solo il mio sentiero e tutto il resto intorno è buio. Con queste luci davvero non è per fare marchetta, ma sono una bomba, piccolissime. Si vede benissimo. Pensate che così sono al minimo. Incredibile. Ma se hai il telefono, stai facendo business. Ok. Vai vai, scala un rapporto. Attenzione, i piedi sui pedali. Incredibile, sgomma. Si, 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 si. Che piacere le cambiate di Freda. Dai, 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 boom. Attenzione, modifiche dell'ultima ora del setup per Freda, boss. Allora? Eh. Com'è? Esco al piccolotto e ci mangiare. Enjoy. Enjoy. Porniace rossa? Sì. Ready? To go. To go. Go. Yo. Yo. È dove ci numbers, eh? Yeah. 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 Qua era stretto Ero vicino Bello il passaggio alto di Franci Ragazzi, miglior prova di questo non esiste, il Parnice Rosso è un sentito molto molto stretto, adesso è stato rifatto per bene da Ivo che ringraziamo per sistemare questi trail, però dicevo che è molto stretto, alberi super vicini, quindi se non si vede questa è la prova e vi dico che si vede Vai Freda! Qua il buon Franci sta scappando troppo Ci sono boss, arrivo! Sketchy qua eh Crap Ok Franci è scappato raga È troppo forte, è sempre troppo forte boss Bello, stretto ma bello Visibilità? Paura Assolutamente spettacolari Ok ci siamo Ci siamo Un altro giro sulla legnaia, un altro giro sulla roulette Ma stavolta dietro al boss C'è caldo? A fuoco Vai Il local di Finele Ligure è davanti al buio, che caldo! Guardate come va Mamma mia Che linee! Le sa tutte! Che whip! Scatenato! Wow le sa tutte le linee, le sa tutte! Spacca tutto! Interno, interno, interno! L'albero lascialo lì, per favore! Interno! Wuh! 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 Com'è? Lo sto avendo di fuoco Ha ha ha! Wuh! 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 Ce n'è un тонissimo fredda a suo agio con la luce ha spoj' a gio con la luce attenzione, è in cambio linea schip da Ah, scusi Ah Wuh! Eww Uh! Scusa Miche è pazzesca sta luce man è veramente bella c'è nulla senti niente in testa Vede come fosse giorno spettacolare Invece questa che ho io l'ottocento è ancora un filino più leggera e fa paura Di brutto Ci regaliamo un po' di stile Vai boss regalaci un po' di stile bro Yo 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 Sul posto di zio Franci Mi chiude per un piano raga Oh e qua mi stacca Qua mi stacca Matto Falla svrappare Come era boss bella? Miche mi è uscita una bella ripata Figa troppo Non è venuto bene il video Ci sta tutto No comunque parate le cazzate Oh c'è Con l'altra luce metriamo un cazzo Dai te la compro ma tu vuoi Ciao 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 Grazie.